Non capisco il fervore nel litigare sui grandi temi. Cioè per me litigare con un terapeutista è come litigare con tua nonna ottantenne discutendo di aborto. Tu vai lì e dici no, no, l'aborto è giusto. E dice no. E se non la convinci? Che succede? Tiene il bambino? Capirei una discussione sull'eutanasia. Ma anche lì. Nonna, l'eutanasia è giusta. No, la vita è sagra. Che può fare? Fermarti. Hai ragione nonna. La vita è una cosa sagra. Buonanotte. 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 Grazie a tutti.